sono le sette e mezza del mattino è il giorno di pasqua e stiamo andando a verona siamo svegliati presto anche oggi stiamo andando a bergamo a prendere la family finalmente ripeterò mio nipote che praticamente ho lasciato che era un tappetto rs più alto di me e anche lui fa lo youtuber si chiama fransanf004 il gamer ci rivediamo ad orion serio siamo arrivati all'aeroporto di orion serio adesso prendiamo la famiglia e partiamo per verona abbiamo caricato i parenti e adesso siamo pronti per partire caricata la famiglia siamo pronti per partire alla volta di verona e siamo pronti a ripartire per rimancabile il balcone di giulietta visita e toccata alla tetta ed eccoci qui piazza delle erbe a verona una delle piazze più belle c'è piene di bancarelle prendono di tutto di più frutta verdura guardate che bella piazza e niente adesso ci gustiamo una bella macedonia abbiamo preso la nostra super macedonia con cocco ananas fragole e adesso ce la smazziamo io lui guardate che bello sono il primo bagnetto delle oche piccole riuscite a vedere che bellezza mamma mia stupenda verona e alle mie spalle l'arena di verona eccola qua nella sua maestosità bellissima siamo qui al castello di verona guardate che bello con facciamo pubblicità vood della barberia milano via crema 23 20 135 0 2 4 9 6 1 4 3 2 8 i soldi i soldi per la pubblicazione senti ti ho nominato due volte 30 euro dai che sei una mica 30? 30 un prezzo onesto bravo un cento e pasqua dai grazie stanchi morti distrutti siamo arrivati qui in trattoria l'isola tipica veronese e qui abbiamo amarone della valpolicella ovviamente a verona non potevamo bere altro bigoli con la sarda ragù di agnello con pappardelle fresche mamma mia che bomba ragazzi non ce la faccio più stiamo mangiando troppo baccalà alla vicentina con polenta per il materasso devi tenere lo scontrino maialino finito il pranzo siamo pronti per tornare a casa prima di tornare a milano breve sosta zone sul lago di seo quindi per guardare una bellezza della natura le piramidi un po di cammino e vedremo le piramidi mettetevi le scarpe alla ginnastica perché il cammino è un po' irto eccole qui le piramidi alle mie spalle non so se le riuscite a vedere guardate i sassi sembrano i sassi di willy il coyote meravigliose sono in bilico da migliaia di anni meravigliose le piramidi venitele a vedere sul lago di seo come si chiama il paese? zeno zeno zena zena o zona no aspetta zona zone 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 eccole qui le piramidi guardate che belle da qui da questo punto di si vedono ancora meglio bellissime guardaci ragazzi che faticata porca eccoci tornati finalmente a casa adesso partitina fortnite col VR e si mangia qualcosina di leggero e si va a nana se vi è piaciuto il video mettete mi piace iscrivetevi al canale youtube di vino divino e ci rivediamo per la prossima puntata e per il prossimo vlog ciao